Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di AIG di Milano. Avvio il leggero rialzo per le borse europee dopo le forti perdite di venerdì legate al continuo calo dei prezzi del greggio. Il calo del petrolio continua ad alimentare forti timori sulla stabilità dei paesi esportatori di petrolio, soprattutto Russia, Messico, Iran, Nigeria e Venezuela. La scorsa ottava abbiamo assistito al ritorno delle preoccupazioni degli operatori sulla Grecia dopo che il premier Samaras ha deciso di anticipare le elezioni presidenziali al 17 dicembre. Nel caso di una mancata elezione del presidente, nei tre turni previsti che termineranno il 29 dicembre, saranno sciolte le camere e si tornerà alle urne. Ciò potrebbe favorire l'ascesa al potere del leader del partito della sinistra ellenica, famoso per le sue posizioni anti-euro. Ottime cifre macroeconomiche negli Stati Uniti, non farm peros, vendita al dettaglio e indici di fiducia hanno superato nettamente le attese. Tale indicazioni macro positive arrivate saranno valutate dai membri del FOM, che è il braccio operativo della Fed, che si riunirà mercoledì per decidere le prossime mosse di politica monetaria. Molto importante sarà il dato sull'inflazione che precede il voto dei membri della commissione operativa. Da seguire con particolare attenzione anche le parole del governatore della Fed, Janet Yellen, nella conferenza stampa successiva alle scelte di politica monetaria, dove saranno rese note le stime aggiornate su inflazione e crescita. Da segnalare la vittoria nel weekend di Shinzo Abe nelle elezioni politiche giapponesi. La coalizione del Partito Liberal Democratico ha conquistato 326 seggi su 475. Pessima la sconfitta per l'opposizione. Ora Abe potrà continuare il piano di politiche economiche lanciate due anni fa, accelerando il passo soprattutto in merito alle riforme strutturali. Dal punto di vista tecnico il dollaro-yen si attesta a 118,60. Il mantenimento al di sopra del supporto a 117,44 lascia invariate le prospettive grafiche rialziste di medio-breve periodo. Sarà il superamento della resistenza a 120 la condizione che permetterà il rilancio della spinta rialzista verso obiettivi situati a 121,85 e 123. Discorso diverso, invece, in caso di cedimento del supporto a 117,44 preludio a un possibile calo verso 114. Cambio euro-dollaro a 1,24 e 40. Ancora vivo il movimento rialzista di breve partito dai bottom dell'8 dicembre. Nell'ultima sessione si è tuttavia indebolita la forza di tale tendenza positiva. L'eventuale cedimento dei supporti compresi tra 1,24 e 25 e 1,24 getterebbe le basi per una discesa verso 1,23,70 e anche in direzione del targo ben più lontano a 1,22,40 strategico in ottica di lungo periodo. Segnali positivi arriveranno solamente sopra 1,25. Rimbalzo del petrolio dopo i pesanti cali delle scorse ottave. Il Brent si avvicina alla resistenza posizionata in area 63,50 dollari al barile, fondamentale per dare concrete segnali di ripresa. Sopra tali riferimento via libera verso i target a 65,10, picco dell'11 dicembre. La rottura invece di 62,10 creerebbe i presupposti per una discesa verso il minimo a 60,30. Con questo è tutto, buon trading.